Allora, ciao a tutti, io sono Carola e sono un membro dello Starting Finance Club di Padova e oggi vi rubiamo qualche minuto per parlarvi di questa nostra realtà. Che cos'è Starting Finance? Starting Finance è la più grande community in Europa per giovani interessanti e appassionati al mondo economico-finanziario e ha come obiettivo quello di divulgare l'informazione finanziaria ed economica ai giovani. Operiamo soprattutto sui social, come si può vedere abbiamo un grande seguito, e fino a pochi giorni fa era appunto di più di 100.000 follower su Instagram, pochi giorni fa abbiamo raggiunto i 200.000, quindi effettivamente una realtà in continua crescita. Come opera Starting Finance e come vuole raggiungere il suo obiettivo di divulgazione? Il primo è tramite l'informazione con un linguaggio semplice e accessibile a tutti. Il secondo mezzo è l'educazione con corsi, guide e percorsi organizzati da Starting Finance in collaborazione con i più bravi esperti in circolazione. Il terzo mezzo è la gamification, quindi ad esempio simulatori di borsa per mettere in pratica anche ciò che in linea teorica studiamo quotidianamente. Adesso lascio la parola a Giulio che vi parlerà invece della realtà dei club. Sì, Starting Finance oltre ad operare il velo nazionale, soprattutto per via telematica, ha anche piccole realtà territoriali legate alle università. Anche la nostra università ha un suo club, lo Starting Finance Club Padova, dove sono presenti ragazzi e ragazze che si incontrano per concentrarsi sull'ambito economico e della finanza. Questi ragazzi organizzano eventi portando esperti a parlare sia dell'attualità sia di temi di approfondimento. Ad esempio, lo scorso anno, il primo evento che abbiamo fatto abbiamo portato Elsa Fornero e Michele Boldrinne, ma abbiamo organizzato anche altri eventi, come ad esempio abbiamo portato il CEO di una multinazionale presente qui in Veneto, con la sede qui in Veneto, e durante la quarantena invece ci siamo spostati sulla parte online invitando professori a parlare appunto di eventi dell'attualità sotto vari punti di vista economici come la microeconomia, la macroeconomia o la finanza, ma anche personaggi di spicco come Enrico Giovannini, ex presidente dell'Istat e attuale portavoce dell'Asbis. Noi in questo momento siamo qui a parlarvi perché abbiamo intenzione appunto di chiedere a voi ragazzi del primo anno di entrare in Starting Finance, potete seguirci e scriverci sul profilo Instagram sfclubpadova. Faremo un evento a breve il 12 novembre, dove parleranno il dottor Conti e il dottor Chiriatti sulla blockchain e sulla cyber security e poi successivamente faremo una presentazione ufficiale dove effettivamente chi vuole entrare in questo club può farsi a tutti. Noi vi ringraziamo.